Siamo con Avellino in Bersi, marcatore bomber di serata, stasera proposto al centro dell'attacco. Hai fatto un gol, un assist, come giudichi la tua prestazione di stasera? Sono felice di aver fatto il mio primo gol, grazie ai consigli di Nico e di tutta la squadra. Sono felice di questa partita perché abbiamo fatto una grandissima partita e dedico il mio gol a Ivan. Va bene, grazie Nino, continua così!